Allora che benvenuti qua nel mio canale, siamo tratti con un nuovo video di Forte E oggi volevo farvi vedere la locazione del tesoro Cerca tra, mi sembra, un pullman, un ponte e tre manifesti Se state vedendo qua nella mappa Ok raga ci siete, è questa collinetta qua Deve andare qua sopra E il punto è fatto Quindi raga, faccio la posizione qua di fianco al ponte di condotti confusi Tra condotti e salty springs Quindi nient'altro Se vi è piaciuto questo video lasciate un like Per nuovi video e per nuovi contest incredibili Di 10.000 V-Bucks O anche di più Quindi raga, lasciate un like e iscrivetevi appunto Se vi è piaciuto questo video lasciate un like E qui da un altro video ci vediamo con un nuovo video, ciao!